Questa cosa ci è apparsa molto strana, non solo molto strana ma anche incomprensibile. Sembra quasi che il Sindaco Romanello si vergogni di celebrare il 25 aprile e lo faccia la mattina all'alba per fare in modo che nessuno se ne accorga, soprattutto che nessuno si accorga della sua presenza. Invece questa festa è una festa di tutti gli italiani, è una festa di liberazione, è la festa della libertà e noi domani saremo a Mestre, in piazza, a celebrare questa ricorrenza perché non solo non dobbiamo ricordarci che se tutti oggi possiamo esprimere liberamente il nostro pensiero è proprio grazie alla lotta di liberazione, è proprio grazie ai partigiani che hanno dato la vita e quindi invitiamo il Sindaco di Marcona a dare più importanza a questa celebrazione non solo per smentire chi lo dipinge distante da questi valori ma anche perché un'amministrazione pubblica, un Sindaco che giura sulla Costituzione non può che non ritrovarsi in questi valori che sono i nostri valori fondamentali.